Eccolo qua! Andiamo alla caccia dei porcellini per il cibo. Eccolo qua! Attacca! Forza! Su! Bravo! Vai! Bravo! Bravo, cucciolotto, bravo! Bravo, bravo, bravo! Vai, attacca! Bravo! Ti sei mio! Bravo! Grazie, grazie! Ciao, pollo! Tammato! Concertissimo! Uno, tante! Troppo! Tredici! ultimo orciallino andiamo a casa andiamo ho già preso 15 è benissimo no i do, i do, i do, that's it su, dentro, ahi, bravo no i do, i do, i do, i do, i do no i do, i do, i do, i do, i do, i do, i do so, entra ciao ma ti piace star là, ti piace star là su, vieni a casa ok ok niente nada bravo no i do, i do, i do no i do, i do, i do, i do, i do, i do, i do i do, i do il database dei virus di Avast è stato aggiornato staatunniglia bravi ci vedo se c'è qualcosa da fatto la tiria tutto io vado metto un po' qua sopra, qui due tre, ce l'ho, no non ce l'ho, spero che ce l'ho, non, non c'è, ok, c'è qua, non ho immaginato, il legno, c'è qua, e allora, qua mi faccio, no, ti ho, bene, quelle volte, zappetta, ok, adesso i mucci, anzi vai e trai, ok, pronto, allora, guarda i due semi, altro pronto da sotto, e un altro sempre, bene, faccio una cosa, ok, così a me lo passo tranquillamente, senza zompare sempre, buono, ci sentiamo la prossima volta, ciao ragazzi,